Il massaggio californiano lavora sulle energie interiori della persona permettendone la circolazione in tutto il corpo, eliminando blocchi energetici ed emotivi. La sua tecnica consiste nell'avvolgere e modellare il corpo nella sua totalità con l'ausilio di oli sulla superficie della pelle, alternando movimenti lenti, fluidi, leggeri o più profondi. Il trattamento tocca lo spazio più profondo del sistema corpo-mente, alimentando una sorgente di potente autoguarigione che agisce su tutti i livelli. Si hanno notevoli effetti positivi su problemi e malattie di origine psicosomatica, quali depressione, ipertensione, ansia, stress, anoressia, bulimia, insonnia, attacchi di panico, dipendenza da psicofarmaci e altro. Ha uno straordinario effetto benefico sull'attività mentale, sulle emozioni e sulla psiche, spostando l'attenzione e l'energia dalla mente al corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione nell'attività della persona. Dall'altro, la persona si percepisce nella sua totalità e reintegra nella sua coscienza le parti del corpo dimenticate. Ciò si tramuta in maggiore senso di realtà, maggiore fiducia in se stessi e nella vita. La vita di relazione ne viene potentemente stimolata. Dall'altro, la persona si percepisce nella sua coscienza. Dall'altro, la persona si percepisce nella sua coscienza.